In Napoli si ritroverà a Castelvolturno per continuare la preparazione in vista della gara contro il Genoa in programma sabato alle 20.45. Garcia deve far alzare subito la testa al suo gruppo dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio prima della pausa nazionale. Ovviamente sono giorni di studio e riflessioni e come abbiamo già detto il tecnico francese vuol modificare qualcosa nel piano di gioco, cercando di trasmettere ai suoi la propria idea di calcio. In corso ci sono varie valutazioni, oltre che si attende di comprendere bene anche lo stato di salute di Politano che svolge allenamento differenziato. Raspadori, l'italiano più pagato nel mercato del Napoli, deve trovare una sua identità. Spalletti nazionale l'ha usato come punta centrale, Garcia vorrebbe provarlo come mezzala, come già cadde l'anno scorso in allenamento e mai in una gara ufficiale. Visto che Lindstrom dovrebbe prendere il posto di Politano nell'11 titolare, ipotizzabile dunque che Raspadori possa trovare una nuova dimensione, ovvero quella di mezzala di incursione. Raspadori ha l'abilità di dedicare particolare attenzione alla fase difensiva e questo mostrerebbe una sua duttilità. Ecco perché Garcia vorrebbe valutarla in quella posizione del campo, un'arma in più da parte di un calciatore che ha la capacità di partire qualche metro più indietro. Intanto il tecnico francese ha una grana da risolvere, ovvero la mancanza di gol di Kvara. Sabato saranno 181 giorni senza che il calciatore Giorgiano riesca a segnare come un gol con la maglia del Napoli, mentre con la nazionale dal 26 settembre dello scorso anno Gibilterra-Georgia ha finito 2-1 che non timbra più il cartellino. Quasi un anno a digiuno, un fatto insolito essendo sempre stato molto regolare in fase realizzativa, soprattutto con la Georgia dove a secco da 5 partite, mentre nelle 6 precedenti aveva segnato 5 volte e perfezionato 3 assist.